Allora adesso ci riferiamo a tutti, in fila o a decora, vedete come? Tutti in fila? In fila, in fila, in fila, in fila o a decora, le palle rette che io sono a costruire, in fila, potremmo mettere in fila? Ok, allora, commettiamo in fila. Allora, fermi tutti. Numero uno, due, tre, quattro, cinque, tre, sette, otto e nove. Poi numero uno, due, tre, quattro, cinque, tre, sette, otto e nove. Allora, adesso ci allarghiamo, in fila, facciamo i passi là, uno, due, tre, tutti i passi là, di fronte a me, come c'è questa linea, tuo amore ferma qua con me, guarda, vai qui con la tappa di Sandra, fermi tutti, facciamo due passi di qua, uno, due, fermi immobili. Allora, adesso facciamo una prova, i numeri uno devono provare a darmi la mano, numeri uno, con la mano che è il numero uno, che è il numero uno, tutto il numero uno, devo ridire i numeri, e li ricordate? Allora, numero uno, numeri due, chi è il numero due? Numeri tre, chi è il numero tre? Numero quattro, numero cinque, sulla mano, tutto il numero cinque, numero sei, diciamo, numero sette, numero otto e numero nove. Ok? Adesso facciamo una prova, adesso, prendiamo un pastoletto bellissimo, allora, facciamo una prova, io chiamo solamente i numeri, ok? Facciamo una prova, dovete arrivare fino a me e poi tornare indietro, ok? Numeri tre, chi è il numero tre? Arrivate fino a me, chi mi tocca per prima? A me? Ok, ci siamo? Adesso puoi prendere il pastoletto e lo facciamo. Torniamo indietro, indietro, indietro. Passiamo un'altra prova, numeri sei. Sei, chi ha sei? Corri, corri. Chi lo ruba, chi lo ruba, chi lo ruba, chi lo ruba, chi lo ruba. Troppo bene. Vai, corri, corri, corri il tuo posto, tu devi rincorrere e prenderlo. Ma nessuno è stato Sara Barbiera, ha fatto letto. Allora, facciamo una prova, chi sa giocare bene? Proviamo, lei contro di te, ok? Facciamo una prova, chi ha come lo rubato il calentare bellissimo? Ridate, amore. Allora, tu sei contro di lei, già pronto? Lasciati con il numero a casa, numero 25. Chi l'ha presa, chi l'ha presa, l'ha presa lei, tu devi mollarla, vai. Chiara a tutti? Dai, avete già giocato? Non è mica la prima volta che giocate, eh? Se lo ripartiamo un pochino, facciamo un'altra prova. Poi ti inizio a giocare, eh? Numeri sette. Prendila, prendila. In questo caso lui l'ha presa, ok? Allora iniziamo. Procci? Ripetiamo l'attima i numeri. Numero uno, numero due, tre, quattro, 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 quattro,